... Ambiente rigenerato a Villa Torlogna, piantati nuove alberi al posto di quelli malati. Arrestato pregiudicato sul Monese, denunciato per aver rubato un'auto. Graffessa sulle peste da scedio Vindoli sul Monte Magnola erano in 260. Calcio agli appuntamenti della domenica, serie di Agnone e Sabezzano, Eccellenza Capistrello Giulianova, Alba Adriatica, Paterno. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Nel corso di mirati servizi di appostamento e pedinamento finalizzati al contrasto delle sostanze di stupefacenti, il personale del commissariato di Avezzano, proceduto all'arresto di due cittadini marocchini trovati in possesso di circa 60 grammi di cocaina destinata allo spaccio nel territorio marsicano. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare ulteriore quantità di sostanza stupefacente, circa 1.200 euro in banconote, provento della vendita, bilancini di precisione ed altro materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento della droga. Gli arrestati di 29 e 38 anni irregolari sul territorio italiano annoverano già precedenti penali di polizia. I due sono rinchiusi presso la casa circondariale di Avezzano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indiegenti della squadra mobile di L'Aquila, sessione contrasto alla criminalità straniere, hanno arrestato invece un cittadino nigeriano di 31 anni, residente a Paganica, ospite della struttura della Caritas, in quanto richiedente asilo, trovati in possesso di 130 grammi di marijuana. L'uomo è stato controllato dagli investigatori della squadra mobile nei pressi della rotonda distante Piazza d'Armi. Alla vista degli agenti, in borghese della questura, il cittadino extracomunitario ha tentato di dileguarsi, ma è stato prontamente inseguito e bloccato. Nel corso della perquisizione personale a cui è stato sottoposto il cittadino straniero, sono stati trovati quattro involucri sperici nascosti negli domenti intimi, contenenti lo stupefacente. Da tempo, la squadra mobile era sulle tracce del pusher nigeriano. Infatti, da alcuni giorni, attraverso la nuova app DuPol, ideata dalla Polizia di Stato, per ricevere in tempo reale foto e segnalazioni di fatti reato, alla sala operativa della questura, erano giunte diverse comunicazioni da parte di cittadini. Il Tar di L'Aquila ha rigettato la domanda cautelare con la quale i ricorrenti chiedevano la sospensione dell'esecuzione della delibera di giunta comunale aventi ad oggetto proposta di indirizzi dei comuni di Balsorano e San Vincenzo Valeroveto per il riordino nei plessi dell'Istituto Comprensivo di Balsorano e San Vincenzo Valeroveto. Questo risultato consente alle amministrazioni comunali di Balsorano e di San Vincenzo Valeroveto di procedere nell'attuazione del progetto al fine di garantire ai ragazzi per il prossimo anno scolastico lo svolgimento di un percorso formativo di qualità. Il tar disegno riorganizzativo prefigurato con l'accentramento delle scuole elementari a Balsorano e delle medie a San Vincenzo Valeroveto una volta a regime permetterà di mettere a disposizione dell'istituzione scolastica a degli alunni quei servizi e quegli spazi indispensabili e vitali per lo svolgimento di un'attività didattica adeguata alle attuali esigenze ed al passo con i tempi. L'auspicio delle due amministrazioni è che cresca la condivisione con i genitori e l'intera popolazione. A vedere tanti alberi privati dei loro rami provoca una sensazione abbastanza sgradevole soprattutto in chiama la natura in modo viscerale. Quando però la mano dell'uomo provvede al reintegro di ciò che ha tolto il piacere del nuovo supera di gran lunga il dispiacere per ciò che è andato o perduto. E la situazione nella villa Torlonia di Avezzano al momento è proprio questa perché nel corso degli ultimi giorni alcuni alberi malati sono stati completamente espiantati ma al loro posto già ci sono altre creature che nella prossima primavera daranno nuova vita a tutto l'ambiente. Nel servizio che siamo per proporvi ascolterete le parole dell'assessore Crescenzo presunti fatto oggetto di diverse critiche al momento del taglio degli alberi più malandati ma ora orgoglioso per ciò che è stato realizzato o che è in via di ultimazione. Quindi ascoltiamolo al microfono del collega Plinio Olivotto. In Italia da sempre c'è l'abitudine buona o cattiva decidetelo voi di criticare qualsiasi cosa si faccia. Parliamo della cosa pubblica comuni enti lo Stato comunque in generale. Ci troviamo a Piazza Torlonia dove sono stati potati o tagliati diversi alberi tantissimi alberi e appena qualcuno ha visto questa situazione subito ha cominciato a criticare il Comune sta mettendo sotto sopra questa bellissima Piazza Torlonia questo polmone verde importante per Avezzano ma il Comune pare che invece abbia già messo degli alberi a dimora e non sono alberelli di pochi centimetri ma sono alberi già fatti. Siamo con l'assessore Crescenzo Presutti le critiche vi sono arrivate e ti sono arrivate e anche tante e anche rumorose la tua risposta? Ma la mia risposta è in questa relazione che hanno redatto i tecnici incaricati dall'amministrazione parliamo di due agronomi conosciuti in città anche perché sono insegnanti entrambi uno all'istituto agrario il professor Sgammotta e il professor Di Profio i quali hanno fatto una VTA così si chiama Visual Tree Assessment e cioè che sarebbe una verifica sulla stabilità delle alberature su ogni singolo albero di piazza Torlonia Villa Torlonia sarebbe più corretto definirla è stata fatta appunto questa verifica che è una verifica la VTA è un metodo universalmente riconosciuto e quindi si pratica ovunque nel mondo la inventò un agronomo un famoso agronomo di Karlsruhe dell'università tedesca sì in Germania e quindi hanno riscontrato dei problemi seri nelle alberature presenti in questo splendido luogo alberature che presentavano numerosi problemi di carie di marcescenze che rendevano anche pericoloso diciamo erano pericolose soprattutto per la collettività per i numerosi cittadini che la frequentano infatti ogni tanto qualche ramo cadeva giù sì abbiamo un po' la memoria corta sempre in questo posto in generale in Italia ci dimentichiamo ciò che è successo 15 giorni prima un mese prima o qualche anno prima negli ultimi tre anni notizie che si possono rinvenire ovunque sono caduti ben tre alberi qui peraltro la fortuna è stata che non sono caduti in orari dove c'erano bambini o persone spaccando persino panchine quindi insomma era un problema serio questa verifica ci ha consentito appunto di stabilire quali era il grado di pericolosità delle alberature ricordo a chi non sa insomma comunque lo informo ai cittadini che attraverso questa verifica poi che è prima visiva e poi strumentale vengono catalogati gli alberi e vengono inseriti in una determinata classe le classi sono A B C C D e D la classe A rappresenta un albero sano identifica un albero sano mentre le classi D la classe D identifica alberi che non hanno esatto che erano da abbattere e ce ne sono stati segnalati una quarantina perché pericolosi per le classi C D cioè quelle come dire borderline si è scelto di intervenire seguendo appunto ciò che ci hanno suggerito gli agronomi ciò che hanno consigliato gli agronomi cioè di fare delle potature di contenimento per evitare soprattutto di eliminare tutte le carie Contipo per esempio l'albero che è qui alle nostre spalle potato in una maniera particolare qualcuno magari avrà anche potuto criticare dice mancherà l'ombra in estate però insomma bisogna dare anche il tempo alla natura di fare il proprio corso Allora intanto questo che mancherà l'ombra all'estate non è vero cioè non sarà così invito magari facciamo la prossima intervista ad agosto così vediamo come sarà la situazione No ma è interessante quello che ci dicono i tecnici perché sulle cause di queste diciamo pericolosità degli alberi i tecnici dicono che gli interventi drastici di potatura fatti negli anni passati sono la principale causa di decadimento degli alberi che appunto è da ricercare leggo testualmente negli interventi di potature del passato eseguite con tecniche di contenimento drastiche sullo sviluppo dell'apparato epigeo in particolare le capitozzature ed esempi di capitozzatura fatti male li vediamo nell'altra parte se poi andiamo a inquadrare dove lì sono state eseguite le capitozzature vediamo lì verso il benzinaio e quegli interventi lì hanno determinato appunto una situazione di successivo sviluppo anomano della pianta dell'apparato radicale e quindi sono formate carie che hanno messo a rischio il pericolo la pianta in questo esempio di albero vediamo che una delle branche è stata tagliata perché presentava delle carie nella parte superiore e quindi il rischio era statico cioè di pericolo di crollo imminente alcuni alberi abbiamo quelli appunto in classe CD cercato di salvarli facendo degli interventi sempre suggeriti dai tecnici di contenimento e quindi cercando di salvare l'albero ma poi gli alberi hanno una vita sono come noi gli alberi hanno un inizio e una fine alcuni alberi sono come dire hanno una durata maggiore altri come i tigli non hanno una durata secolare ricordiamo che la villa è stata realizzata verso la fine dell'Ottocento e inizialmente si fece la villa partendo proprio dalle alberature laterali e con i tigli i tigli notoriamente durano dai 150 a 200 anni e questo dipende anche naturalmente dagli interventi antropici che vengono eseguiti se una pianta viene correttamente potata può durare di più anche 200 anni in altri casi invece per effetto di interventi errati negli anni passati dura 100 o meno senti avvocato qui dietro a noi vediamo una fila di alberi che tipo di albero è e quanto tempo impiegherà per arrivare all'altezza di questi più anziani più vecchi allora qui naturalmente abbiamo seguito il disegno originario questi sono tigli sono gli stessi esemplari che sono presenti qui nella villa sono alberi già grandi come vedete abbiamo scelto alberature insomma intorno ai 30 cm di diametro dal fusto quindi sono già alberi che hanno 7-8 anni e che nel giro di 2-3 anni raggiungeranno dimensioni tali da ombreggiare la villa però ricordo un'altra cosa noi abbiamo in questo intervento necessario abbiamo detto eseguito il taglio l'abbattimento di circa 50 alberi perché poi in corso d'opera alcuni che erano in classe CD poi ad una più attenta verifica abbiamo dovuto richiamare i tecnici e che ci hanno appunto consigliato a quel punto l'abbattimento di quelli che erano cosiddetti borderline abbiamo detto ma negli anni passati nessuno si è accorto che ne erano stati tagliati circa 56 in questo immenso lavoro che abbiamo fin qui svolto abbiamo anche tolto i ceppi che erano presenti nella villa e di alberi mai più sostituiti ora io capisco che quando si taglia un albero non è una bella cosa poi io insomma sono molto sensibile a certe tematiche lo sapete e tuttavia i cittadini dovrebbero indignarsi quando un albero viene tagliato e non viene messo un nuovo albero a dimora questa è una città giardino che ha 5.000 alberature e 300 sono state tolte ne aveva 5.000 e 3 negli ultimi 10 anni senza essere mai state sostituite noi stiamo facendo anche ciò che non era stato fatto cioè abbiamo messo a dimora circa 100 nuovi alberi e nel giro di poco tempo già quest'estate troverete una villa splendida comprati nuovi siepi nuove impianti di irrigazione funzionante una fontana che finalmente funzionerà e non sarà più alimentata con acqua potabile con acqua diretta ma con pozzi che stanno per essere realizzati e quest'estate avrete un giardino la cittadinanza avrà un giardino bello come si conviene però il polmone verde di Avezzano diciamo che sta più a nord la vecchia pineta in che condizioni è? lì vengono tagliati tanti albidi perché sono vecchi perché stanno alla fine del loro ciclo vitale ma per ripiantarli? anche lì stiamo lavorando stiamo studiando perché prima di fare un lavoro si studia e anche lì abbiamo fatto già numerosi sopralluoghi con i tecnici con agronomi quindi con persone che fanno questo mestiere i quali ci hanno evidenziato hanno evidenziato una serie di problematicità alle quali intendiamo porre rimedio intanto anche la pineta che è uno dei luoghi più amati dai cittadini avezzanesi numerosi alberi vanno abbattuti numerosi alberi vanno abbattuti semplicemente perché pericolosi anche lì come sapete si verificano diciamo con una certa frequenza crolli perché il pino nero che è un pino appunto anche lì basta leggere i manuali che spiegano appunto che cosa è un pino nero qual è la sua longevità dai 100 ai 150 massimo 200 anni anche lì per effetto del mancato diradamento nel corso dei decenni passati si stanno verificando questi fenomeni di decadimento e quindi la pineta va verso il suo ciclo vitale ora proprio perché che va verso il suo ciclo vitale noi vogliamo farsi accompagnare verso la fine del ciclo vitale sostituendo progressivamente con nuove alberature nuove alberature che però questo è l'oggetto dello studio probabilmente saranno alberature autoctone quindi specie di alberi presenti nei nostri luoghi e per questo aggiungo l'idea del vivaio della forestale che torna in possesso del comune e da lì spero che in futuro in un immediato futuro troveremo la possibilità di piantare 10.000 alberi l'anno seminare 10.000 alberi l'anno e di distribuirle in questo nostro territorio anche agli altri comuni della Marsica e ora torniamo alla cronaca spostandoci nel comprensorio Peligno i carabinieri di Sulmona incrementano i controlli ed arrestano un pregiudicato che era ricercato dando esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere l'uomo è stato anche denunciato per ricettazione di un'autovettura rubata e guida senza patente i carabinieri della compagnia di Sulmona impegnati in un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantenne pregiudicato di Sulmona gravemente indiziato di aver commesso mesi addietro un furto di tabacchi in danno in un esercizio commerciale di Pescara per tale motivo il pregiudicato era stato sottoposto alla misura cautelare e dell'obbligo di presentazione giornaliera al comando della stazione carabinieri di Sulmona disposta dal tribunale di Pescara la quale però ad un certo punto si era sottratto rendendosi di fatto irreperibile oggi l'uomo è stato individuato dai militari nel centro cittadino mentre era alla guida di una Fiat 500 peraltro risultato rubata nella giornata di ieri a Pescara ed a seguito di un'attività di indagine partita da un sospetto movimento di persone che da qualche giorno era stato notato nei pressi di uno stabile sito inviale della stazione a Sulmona gli agenti del commissariato hanno fermato per un controllo un uomo residente nel Napolitano il continuo via vai di persone ha lasciato presagire che all'interno dello stabile fosse in corso un'attività illecita per cui gli agenti hanno proceduto all'eruzione all'interno dell'appartamento dove hanno rinvenuto circa 200 capi di abbigliamento scarpe e accessori sia da uomo che da donna di note marche e risultati contraffatti trovate anche diverse etichette pronte per essere apposta ai capi la merce era conservata in maniera ordinata su scaffali di esposizione l'uomo dipendente di una ditta di polizia con sede a Napoli non è risultato titolare di partita IVA e non sono stati trovati all'interno del locale né registratore di cassa né altra documentazione fiscale lo stesso è stato deferito alla competente autorità giudiziaria il Stato di libertà per i reati di contraffazione introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni false e ricettazione e nei suoi confronti è stato avviato il procedimento di erogazione da parte del questore dell'Aquila della misura del foglio di via obbligatorio dal territorio di Sulmone valore della maccia sequestrata di oltre circa 20.000 euro ed è stata una serata di festa amicizia quella vissuta ieri sera sulle piste da scedi o vindoli sul Monte Magnolo erano in 260 58 i runners che hanno preso parte alla gara di corsa 48 coloro che hanno gareggiato con gli sci di alpinismo oltre ai 40 i bambini e ragazzi dell'associazione 36.0 che a notte fonda sono scesi con gli sci e tra cibi risate a 1800 metri di quota hanno condiviso momenti indimenticabili con i ragazzi dell'Anfas Onlus di Avezzano e i loro familiari è stata una serata speciale per noi per i nostri ragazzi è dichiarato la presidente di Anfas Onlus domenica di Salvatore la cronaca sportiva registra comunque la vittoria tra dieci alpinisti di Carlo Colagliani davanti ad Armando Coccia e Marco Daniele mentre tra le donne prima Raffaella Tempesta davanti a Viviana Ricci e Giovanna Galeotta la classifica dei corridori di montagna vede primo Antonio Berardi di MT Biscanno davanti ad Angelo Raglione ed Antonio Felli entrambi del GS Celano tra le donne prima Annalisa Cipollone del team Bugard davanti a Cesira Poponetti Plus Ultra e Francesca Liberatore Love Your Mountain manifestazione riuscita sotto tutti gli aspetti è stato emozionante vedere un fiume di luci che si inerpicava sulle nostre piste dichiarato desiderio a Bartolotti della Monte Magnola Impianti Valorizzazione delle aree interne dell'Abruzzo con particolare riferimento al corridoio di collegamento tirreno-driatico che corre sull'asse Teramo L'Aquila-Roma incentivi agli imprenditori locali sostegno alle piccole e medie imprese sviluppo turistico e marketing territoriale accesso al credito ricostruzione fisica economica e sociale delle aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016 sono alcuni dei temi al centro del dibattito organizzato dalla CNA dell'Aquila e della CNA di Teramo che incontreranno i candidati alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo primo appuntamento previsto martedì 20 febbraio alle 10 all'auditorium della CNA dell'Aquila in via Pescara complesso Strinella 88 si replica poi giovedì 22 febbraio alle 18 a Teramo nella sede della CNA le due CNA da tempo hanno avviato un percorso di collaborazione strategica con l'obiettivo di sviluppare una maggiore forza politica una più qualificata struttura di servizi per il tessuto produttivo dei territori di riferimento spiegano il direttore della CNA di Teramo Gloriano Lanciotti e quella della CNA dell'Aquila Agostino del Re le elezioni politiche del prossimo 4 marzo cadono in una fase di trasformazione e profondo cambiamento che deve essere governata con politiche a misura delle piccole e medie imprese che rappresentano il 99 4% dell'imprenditoria italiana ai candidati verrà presentata una sintesi del documento predisposto dalla CNA nazionale unitamente alle proposte a livello locale in modo da avere un terreno di confronto omogeneo tra due versanti del Gran Sasso Presidente D'Alfonso è senza pudore lo dichiare il senatore Gaetano Quagliariello candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale L'Aquila Teramo il problema della sua permanenza alla guida della regione Abruzzo prosegue Quagliariello risponde innanzitutto a profili etici e politici dopo aver scelto di abbandonare anzitempo l'incarico al quale i cittadini lo avevano designato nel caso di elezione al Parlamento dovrebbe come hanno fatto alcuni i suoi predecessori formalizzare la sua opzione alla prima seduta utile del Senato qualsiasi diversa condotta conclude Quagliariello rilevere e rivelerebbe una concezione proprietaria delle istituzioni e la sua considerazione della regione Abruzzo alla stregua di una buvette dove si consuma affinché c'è convenienza politica e personale ed in vista delle prossime elezioni politiche fissate appunto nella giornata di domenica 4 marzo il Ministero dell'Interno con propria circolare ha fornito indicazioni concernenti l'agevolazione applicabile viaggi degli elettori sia residenti in Italia che all'estero e tali agevolazioni riguardano gli spostamenti in aereo in treno e via mare sul sito internet della prefettura dell'aquila prefettura.it slash l'aquila alla voce aria d'ufficio elettorale elezioni politiche 2018 sono riportate tutte le indicazioni per l'ottenimento delle agevolazioni previste e dentro il 28 marzo prossimo la conferenza dei servizi dovrà esaminare il progetto di bonifica della discarica a Tremonti nel sito di interesse nazionale di bussi sul tirino presentato dall'edison si tratta della terza versione del progetto dopo che sia il ministero che gli altri enti hanno chiesto di modificare l'iniziale piano che prevedeva tra le tecniche di risanamento ambientale quella della combustione del terreno inquinato tecnicamente chiamata desorbimento termico un processo di depurazione del sole inquinato che rimuove i contaminanti organici volatili e semi volatili contenuti nel terreno da bonificare vaporizzandoli intanto dirigente delle divisioni bonifiche del ministro dell'ambiente Laura D'Aprile ha assunto l'incarico di direttore del settore rifiuti del comune di Roma governo nazionale nell'ambito del piano di sviluppo dell'infrastruttore ferroviaria in Abruzzo ha ufficializzato l'incremento della dotazione finanziaria per complessivi 186 milioni da destinare a potenziamento ed elettrificazione della linea Terni l'Aquila sul Mona per 75 milioni e per il completamento del raddoppio della Pescara Chieti per 111 milioni per risuonato in conferenza stampa l'Aquila il governatore abruzzese Luciano D'Alfonso è una scrittura amministrativa irrimediabile c'è la copertura finanziaria si dà quindi corpo a questo doppio investimento per il quale la progettazione è già pronta ha spiegato il governatore ha un risultato eccezionale sono opere attese da 20 anni per le quali in passato si sono posti problematiche più di studiosi che le istituzioni nella seduta della cabina di regia per la programmazione Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 del 19 dicembre 2017 ha ricordato D'Alfonso ho chiesto tenuto dal ministro Graziano del Rio il ripristino del fondo dedicato a questi due obiettivi strategici per lo sviluppo infrastrutturale della nostra regione ringrazio il ministro che ha compreso le ragioni dell'Abruzzo e l'Ad Gentile per il sostegno concreto e vigilerò sull'accelere realizzazione delle opere nell'annunciare che il 22 febbraio prossimo ci sarà la consegna dei lavori per la Fondo Valle Sangro D'Alfonso intanto ha detto che con il completamento del raddoppio della linea Pescara-Chieti nasce la grande Pescara perché i trasporti uniscono i territori mentre con l'elettrificazione della Terni l'Aquila sul Mona il sistema l'Aquila si apre a quello di Roma con la riduzione dei tempi di percorrenza ed ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio settima giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie D Colavezzano che giocherà fuori casa contro l'Agnonese degli ex Rullo e Cassese partita delicata per i biancoverdi reduci da due parigi consecutivi per 0-0 risultati che non hanno assolutamente soddisfatto né il presidente Paris né la tifoseria i molisani occupano una zona medio-bassa della classifica e sulla carta non dovrebbero costituire un ostacolo insormontabile ma alcune assenze che si sono registrate nelle fila marsicane nel corso delle ultime partite preoccupano non poco anche la lena tornatore Gianpaolo fra tutte quella del trequartista Cerone fuori ormai da tre settimane per via di un infortunio ai legamenti dal ginocchio che non gli ha consentito di fornire il giusto apporto ad una manovra che ne ha risentito oltre misura domani tornerà a disposizione di Cursio che sembra finalmente guarito da un infortunio che si è protratto per troppo tempo per quanto riguarda la formazione salvo sorprese dell'ultima ora dovrebbe essere quella di domenica scorsa in eccellenza il match si disputerà a Capistrello dove rovetani ospiteranno la capolista Giulia Nova per l'occasione è previsto l'afflusso di numerosi tifosi provenienti anche dalla cittadina adriatica ed ovviamente a Capistrello sperano che ai giallorossi venga riservato lo stesso trattamento offerto al Chieti un paio di settimane fa con l'occasione di Amaranto disputeranno una grande partita vincendo la fine per 3 a 2 e la speranza dei tifosi marsicane che leccese e compagni sappiano concedere il bis così da reprire il campionato che allo stato attuale sembra inesorabilmente chiuso in favore dei giuliesi è grave difficile anche per il paterno che dovrà vedersela fuori casa contro l'alba adriatica avversario tradizionalmente ostico per i nerazzurri che però stanno recuperando pian piano i numerosi infortunati che ultimamente hanno messo l'allenatore torte in gravi difficoltà soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato che in una circostanza in particolare ha dovuto fare a meno contemporaneamente di tutta la difesa viste le essenze di Tabacco Celli e di Stefano ma domani gli ultimi due saranno a disposizione per cui il tecnico avrà quantomeno la possibilità di scelta e chiudiamo con la promozione che per la nona di ritorno vedrà il Luco impegnato fuori casa contro la Rosetana e il Pucetta ospitare il Fontanelle sul campo di Antrosano E con lo sguardo termina qui questa edizione del giornale come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni quindi grazie per averci seguito e rivederci alla prossima edizione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti